...ma che ovviamente sono Mila-Nasla, Napoli-Celsi e Marsiglia-Igna. ...se che siamo sulle stesse partite. Queste squadre l'ho dimostrata in quale capacità, io penso che in queste partite potremmo che non ce l'hanno. Ma insomma anche su scuole che stanno facciando molto. ...e frequenziali. ...e frequenziali. ...e frequenziali. ...e frequenziali, comunque, o meno che fuori Italia sia per un risultato di rumore che viene in pratica. ...spesso è sottolineato come si comporta bene Napoli in Europa, per questo pensi che possano passare il turno dietro e... ...sì, perché hanno l'identità, nel senso che non nemmo mai consumirà il porto in Europa, quindi al di là della zona degli attività, le squadre italiane hanno una loro identità che non sono... ...e la questione stesse, si è sempre parlato, insomma... ...sì, aspettiamo. ...perché si preannuncia un campionato, un testa a testa tra Mila e Juve, insomma, sarà difficile, insomma... ...sto braccio di ferro con i club per aver fatto il tempo, o pensi che capiranno, insomma, l'esigenza di un europeo? ...l'esigenza di un europeo, penso che sia veramente importante per l'italia italiano e che anche poche ore potrebbero essere importante. Grazie, grazie. ...ottimissima. Grazie, grazie. ... ... ... ... ... ...